Allora ho deciso che d'ora in avanti, almeno per qualche settimana, alla fine di ogni mio video promuovo, diciamo così, auguro un altro canale YouTube, una pagina Instagram, un creatore di contenuti che mi piace, perché mi sembra una cosa bella. Alla fine del video, adesso facciamo il video. Oggi sono contento perché ho cominciato a scrivere il libro nuovo, il libro vecchio, che poi non è vecchio, insomma il precedente, era questo qui, è un libro sul Rinascimento, i protagonisti sono Leonardo e Michelangelo però passo in rassegna tanti pittori di Rinascimento, alcuni noti, c'è Botticelli, Raffaello il Perugino e Piero della Francesca, però mi sono divertito molto a raccontare anche la vita di artisti grandiosi, veramente grandiosi, che sono poco conosciuti, poco conosciuti. Piero di Cosimo, Cosimo Rosselli, ma poi, ma vuoi mettere la grandezza di un Antonio Gamberelli detto il Rossellino? Ma grandissimo. Però ce n'è uno fra questi misconosciuti, fra questi troppo poco conosciuti, a mio giudizio, che mi è rimasto nel cuore. Io penso, si possa dire, l'artista più imprevedibile del Rinascimento. Si chiama Pietro Torrigiano o Torrigiani, cioè la grafia non è sempre univoca, quindi a volte viene scritto Torrigiano, no, a volte Torrigiani comunque. E questo ha avuto una vita incredibile, una vita incredibile che è resa ancora più incredibile dal fatto che noi non la conosciamo nel dettaglio, come invece succede per Leonardo e per Michelangelo. Quindi questo qui tu continuamente lo vedi sparire da una parte, apparire da un'altra e dici ma scusa, ma come hai fatto da qui a arrivare lì? Ma che senso ha questo passaggio? Come è stato possibile? Allora, vi racconto. La storia dell'arte intercetta Pietro Torrigiano quando lui ha 18 anni e è un apprendista scultore a Firenze, presso il Giardino di San Marco. Il Giardino di San Marco era questa specie di accademia che era stata fondata niente meno da Lorenzo il Magnifico e lì con lui c'era a studiare anche il giovanissimo Michelangelo, Michelangelo Buonarroti. Michelangelo aveva 15 anni, Torrigiano ne aveva 18. Michelangelo non era evidentemente il culmine della simpatia quindi punzecchiava continuamente il Torrigiano, lo dileggiava, lo provocava, lo infastidiva finché succede un giorno questo che, dice il Torrigiano, un giorno mi venne assai più stizza che il solito e stretto la mana gli detti si grande il pugno sul naso che sentì infiaccare sotto il pugno quell'osso e tenerume del naso, quindi l'osso e la cartilagine, come se fosse stato un cialdone, come se fosse stato un biscotto, glielo sbriciola il naso, gli spacca il naso, gli spacca il naso e da allora per tutta la vita, per questo motivo, Michelangelo avrà il naso da pugile schiacciato. Se andate a Milano, al Castello Sforzesco, c'è una sala dove c'è l'ultima scultura di Michelangelo, la Pietà Rondanini, e c'è una testa in bronzo di Michelangelo, attribuita a Daniele da Volterra, che è ricavata dalla sua maschera mortuaria, quindi è lui, è come vederlo in fotografia Michelangelo, è lui, e lì si vede benissimo che ha il naso schiacciato. Quindi questo qui gli spacca il naso a Michelangelo. Solo che Michelangelo era il pupillo di Lorenzo il Magnifico, cioè Lorenzo il Magnifico lo faceva mangiare in casa, dormire in casa con i suoi figli, era praticamente quasi un figlio adottivo. Quindi voi capite che conseguentemente a ciò il torrigiano viene cacciato via dall'Accademia, cacciato via da Firenze, e uno dice, vabbè, è una carriera luminosa, è spezzata prima ancora di cominciare, e invece lo rivediamo dopo qualche anno che è diventato lo scultore del Papa, Papa Alessandro VI, Rodrigo Borgia, e lui fa lo scultore e scolpisce un ritratto in marmo del Papa, ma ve lo faccio vedere, ma ve lo faccio vedere, è questo. Guardate il realismo impietoso, gli fa la papagorgia, gli fa la papagorgia, gli fa, vedete, gli fa la carne molle, lo fa in bolsito, lo fa, però lo fa in un periodo in cui Leonardo e Michelangelo se lo sognavano di lavorare per il Papa, se lo sognavano. Allora uno dice, beh, è partito male, ma poi che luminosa carriera, scultore del Papa, lo ritroviamo dopo qualche anno in fin di vita, è in fin di vita e scrive il suo testamento, è un testamento particolarmente lacrimevole, ora nessun testamento è allegro, ma questo è particolarmente tragico perché lui scrive che pagherà le spese del funerale vendendo i suoi vestiti, ma come vendendo i suoi vestiti, ma non era lo scultore del Papa, ha sperperato tutto nel vizio, oppure la malattia è durata così tanto che ha speso tutti i soldi per curarsi, non lo so, comunque lui rimane in mutande, in mutande letteralmente, cioè deve vendere i vestiti per pagarsi il funerale. E che tragica, ehi me, che tragica, fine, che fine, così, prematura. Lo ritroviamo dopo qualche anno che si è ristabilito perfettamente nel pieno delle forze e cosa fa? Ricomincia a scolpire? No, fa il mercenario, fa il mercenario, fa il soldato di Ventura, fra le altre cose partecipa alla campagna di Romagna, quindi combatte come mercenario per Cesare Borgia. Cesare Borgia, cioè il figlio del Papa. Capite la follia? Capite la follia della storia? La stessa persona ha scolpito un busto del Papa, quindi ha visto il Papa così da qui a lì, ha scolpito il suo busto e ha combattuto come mercenario per il figlio dello stesso Papa, che già come concetto il figlio del Papa è bello, però la stessa persona ha capito? Incredibile. E uno diceva, vabbè, questo qui lo smudellano in guerra, muore così, ha lasciato delle sculture notevoli, però lo ritroviamo dopo qualche anno, che è in Inghilterra, ha ricominciato a fare lo scultore, scolpisce prevalentemente in terracotta policroma e non più in marmo ed è strapagato a fior fior di contratti, contratti dove il suo nome viene anglizzato e quindi invece di essere chiamato Pietro Torrigiani è chiamato Peter Torresane, ma in un'epoca in cui, ma che Leonardo e Michelangelo li chiamassero in Inghilterra? Non si sa come ci sia finito questo qui, è un mistero, è una cosa incredibile e mostra un'abilità sorprendente, tanto che diventa lo scultore ufficiale del re d'Inghilterra, questo qui, questo qui, Enrico VIII, il re d'Inghilterra, cioè diventa il suo scultore, tanto che gli fa scolpire il ritratto del padre morto, Enrico VII, guardate che cosa incredibile, questa l'ha fatto Torrigiano, questa è una scultura, sembra vero, è vivo, guarda che occhi che ha, guarda che espressione, la tensione, come se osservasse e scrutasse qualcuno che si muove nella stanza, lo guarda anche, lo squadra anche un po' dal lato in basso, perché lui comunque è il re, incredibile, un genio, un artista grandioso, allora il re d'Inghilterra gli chiede di scolpire e di progettare la sua tomba, cioè la cosa più importante che ci può essere, la tomba di un uomo, la scultura a cui un uomo tiene di più, lui deve fare la tomba per il re d'Inghilterra, siccome il progetto è faraonico, chiede al re d'Inghilterra il permesso di rientrare in Italia e, come dire, reclutare della manovalanza, dei giovani, dei garzoni, degli apprendisti, dei ragazzi che lo aiutano, ma è talmente difficile, il permesso gli viene accordato, quindi lui torna in Italia, ma è talmente difficile di di carattere, talmente irruente, talmente manesco, talmente intrattabile che non convince nessuno, non convince nessuno e c'è la testimonianza che è molto interessante che è quella di Benvenuto Cellini, Benvenuto Cellini da giovane ha conosciuto Torrigiano perché è uno dei giovani scultori che Torrigiano ha tentato di convincere ad andare con lui in Inghilterra. Benvenuto Cellini è una figura, insomma, maledetta del Rinascimento, non è che sia una mammola, però di fronte a Torrigiano anche lui è in difficoltà e dice Cellini che Torrigiano sembrava più un soldato che un artista che parlava sempre a voce alta, che aveva questo modo molto irruente, molto sbruffone, insomma, c'è questo episodio bellissimo. C'è Cellini, il giovane Cellini che mostra dei disegni a Torrigiano per fargli vedere quanto è bravo. Ecco, questi sono dei disegni che ho copiato da Michelangelo che per me è l'artista più grande di tutti, è proprio il mio preferito e il mio idolo ha fatto il suo media, ha fatto quasi uguale, ha fatto bene. Ah sì, ah ti piace Michelangelo? Ah io l'ho conosciuto Michelangelo. Chi fa Torrigiano? Allora immaginate Cellini, no? Quando tu sei un ragazzino è un idolo, hai un idolo e scopri che la persona davanti a te ha conosciuto, ci ha parlato. No, vuoi sapere tutto? No, è vero, ditemi, ditemi, ma quando è stato? Ah, abbiamo studiato insieme. Ah, ho già detto San Marco. Ah sì, ma cosa avete fatto? Ah, gli ho spaccato il naso. Gelo, Gelo, Gelo racconta Cellini nella sua vita, nella sua autobiografia, non volevi mai più parlargli, non potevo più vederlo. Non convince nessuno, però uno dice, vabbè, comunque, anche se non convinci nessuno, devi fare il lavoro da solo. Comunque, sei lo scultore del re d'Inghilterra, quindi denaro, gloria, lo ritroviamo dopo qualche anno. La tomba non l'ha finita, non si sa perché, è in Spagna. È in Spagna, scolpisce delle opere francamente sconvolgenti, sensazionali, sensazionali. Guardate questo San Giacomo, San Giacomo, scusate, San Girolamo Penitente. Guardate, guardate che cosa. È anziano, si percuote con una pietra, si percuote con una pietra, vedete, ha in mano il crocefisso su cui medita e nell'altra mano tiene la pietra con cui si percuote il petto. Vedete, è anziano, però è muscoloso, però comincia la carne ad afflosciarsi. Guardate le pieghe, le pieghe nel ventre, guardate la precisione, guardate i dettagli, guardate la tensione muscolare, la potenza. Guardate, guardate i muscoli della spalla, guardate i muscoli del costato, guardate i pettorali, vedete che un po' cedono perché è anziano, è muscoloso ma allo stesso tempo va verso il disfacimento della carne. Guardate questo, guardate il braccio, guardate le vene del braccio, guardate il dettaglio, incredibile, incredibile le vene che affiorano, che si vedono da sotto la pelle, guardate questo piede, il piede appoggiato che si torce, stupendo, incredibile, entusiasmante, sconvolgente. Bene, diventa uno scultore acclamato. Diventa uno scultore acclamato, poi cosa succede? Succede che un giorno un nobile gli commissiona una statua della Madonna e gli promette come pagamento un mucchio di monete, una montagna di monete. e Pietro Torrigiano si convince che quella è la svolta della sua vita e della sua carriera, che finalmente diventerà ricco, come merita. Quindi scolpisce questa Madonna in terracotta e viene pagato con una montagna di monete, ma queste monete sono delle monete che si chiamano Maravelis, valgono nulla, valgono nulla e quando lui si fa quantificare la somma, il valore di questa montagna di monete scopre che non è diventato ricco, che è stato pagato molto meno di quello che lui pensava e sperava, che quella non è la svolta della sua vita. Allora si sente truffato, si sente raggirato, è una persona irruente, è quello che ha spaccato il naso a Michelangelo, è sempre lui, prende un martello, va dove sta la statua e la spacca a martellate. Spacca il suo capolavoro a martellate, spacca la statua della Madonna a martellate, al che il committente lo denuncia alla Santa Inquisizione per vilipendio. Capite? Lui ha spaccato la statua della Madonna a martellate, ma non l'ha spaccata per offendere la Madonna, l'ha fatta come gesto di rabbia, di ribellione, di giustizia contro la persona che secondo lui l'aveva truffato. Insomma questo qui finisce nelle grinfie della Santa Inquisizione, è accusato di essere un iconoclasta e quindi un eretico e dice Giorgio Vasari, questo enciclopedico, biografo degli artisti rinascimentali e medievali, prima del processo si suicida, lasciandosi morire di fame. A 56 anni muore Pietro Torreggiano, 56 anni, questa è la sua storia che è incredibile, ha lasciato dei capolavori formidabili, formidabili, cose veramente da mettersi in ginocchio, spettacolari, non lo conosce nessuno, non lo conosce nessuno, certo gli storici dell'arte lo conoscono, certo gli appassionati lo conoscono, ma non è minimamente vicino alla fama di un Leonardo di Michelangelo, di un Botticelli, di un Raffaello, di un Perugino, di un Piero della Francesca, di un Masaccio, è una specie di Michelangelo ancora più irruente, ancora più violento, ancora più irracondo e maledetto, e maledetto, una figura per me incredibilmente potente di cui mi sono innamorato. Basta, questo è quello che vi volevo raccontare, vi volevo raccontare, e, ah, sì, come promesso, come promesso, allora, alla fine di ogni video promuovo un altro creatore di contenuti, c'è un creatore di contenuti che ho scoperto da poco, mi piace moltissimo, si chiama Chimicazza, Chimicazza, lui fa divulgazione scientifica sulla chimica, è una pagina Instagram, e questo qui, Chimicazza, è uno che è un giovane chimico, è un chimico vero, fa delle cose sorprendenti per un profano, lì a casa sua, fa degli esperimenti di chimica, se la vita, ve lo faccio vedere da lui che è più bello, se la vita ti dà i limoni, fai la limonata se hai sei anni, se la vita ti dà i limoni, cioè sei anni ce fai la limonata, a 30 ce fai il limoncello, se il chimicazza ci tiri fuori il limonene, il limonene è una molecola composta da unità insopreniche, è meraviglioso, è meraviglioso, lascia la bocca aperta, poi è molto veloce, è molto tecnico, è molto veloce, quindi non è che ti insegna, però ti fa venire una gran voglia di imparare anche tu la chimica, ti fa anche una certa sana, sana invidia, dice ma che lui sa la chimica, e io no, la voglio imparare un po' di più anch'io, fantastico, chimicazza su Instagram, lo dovete seguire, lo dovete seguire, bellissimo, lo vedo sempre, e basta, questi sono i video che faccio così, in modo disordinato, stocastico, gratuito, ma se volete altri contenuti miei c'è questo programma molto simpatico che si chiama TP, e è scritto, vi lascio il link in descrizione, dove con un abbonamento popolare, popolarissimo, potete accedere a contenuti miei diversi, va bene, ci si vede, buoni artisti, buona storia della buona storia dell'arte, ma anche buona chimica a tutti, ciao.